E' un video comunque Ciao a tutti ragazzi da Ricchi Debo 97 Ciao 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 Allora volevo aggiornarmi un po' sulla mia vita che mi è successo in questo periodo Allora sono stato molto assente perché ho iniziato un nuovo lavoro Perché mi è venuta una malattia Cioè una malattia Comune influenza Però mi ha debilitato tanto questa faccenda Oggi è la giornata libera Ho iniziato in un agriturismo a Motta di Livenza Mi sto trovando molto molto bene Per me è iniziata quasi una famiglia perché mi sto trovando veramente molto bene Sono qua con il mio cagnolino Pepe E poi volevo dirvi no Al collegio su Rai2 è un programma che fanno vedere come vive uno dei ragazzi dentro un collegio nel 1960 1868 Aveva tanti sapranno E' entrata una Alice De Bortoli E io per chi lo sa mi chiamo di cognome De Bortoli E quelli che magari non mi riconosco qua la mi scrivono Ma sei parente di Alice De Bortoli? Nooo non sono il fottuto parente di Alice De Bortoli Anche perché ci sono in Veneto 1300 famiglie di De Bortoli E quindi è difficile conoscere tutti Comunque mi stanno malissimo i capelli Vabbè E volevo dire che Ah mi è arrivato Comunque sono stato molto molto male Febbre, tosse, raffreddore Di tutto di più La mia mamma La mia La fede Mi ha regalato questo bellissimo papillon Non so se si vede bene Che è in legno Con Con Tipo barbari qua E Praticamente A forma di baffi Come i miei baffetti Comunque molto bello questo Anche qua sono naci Sono tre famiglie di De Bortoli E nessuna è parentata con l'altra Aspetta Tre famiglie Di quelle che conosco E Comunque Oggi sono libero Sordo qua Impressionante Comunque Poi volevo parlare Anche Del Trash Che sta accadendo Tra uomini e donne Della scelta Di Teresa Insomma Ho fatto la scelta Troppo di Secondo me Di cuore Però per uno Quello la caga Praticamente Poverza Teresa E Poi Di là All'isola dei famosi Con Germia E il soleil Che sembrano Un set porno Praticamente Comunque Voi cosa ne pensate Comunque Andatevi a scrivere A richiedemo97 Sono De Bortoli Sì Ma non è mia parente Alice De Bortoli Un saluto Iscrivetevi Seguitemi Ciao Ciao